Buongiorno, ben trovati all'appuntamento di giovedì 24 settembre con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa per la lettura dei quotidiani partendo dalle pagine nazionali per poi andare a leggere e a vedere insieme le pagine provinciali che riguardano la nostra regione. Apriamo con il Sanso del Giorno che viene ricordato dalla Chiesa Cattolica, un santo marchigiano San Pacifico che arriva da San Severino Marche al secolo Antonio Divini. Fu un frate minore osservante italiano, beatificato da Papa Pio V nel 1786, venne proclamato santo e poi da Papa Gregorio XVI nel 1839, figlio di Antonio Maria Divini e Mariangela Bruni, nacque il 1653 a San Severino Marche in provincia di Macerata. I suoi genitori lo lasciarono orfano poco dopo aver ricevuto la cresima. Aveva solo 4 anni e per la sopraggiunta difficoltà economica della sua nobile famiglia fu affidato allo zio materno, arcidiacono della cattedrale e quindi come attestano varie biografie un'infanzia solitaria e meditativa piegata all'intrazicente figura dello zio scandita da frequenti visite di raccoglimento alle chiese della città e ai sacri altari che costruiva in casa. Su consiglio dei minori osservanti riformati del convento di San Severino, di Santa Maria delle Grazie che ne conoscevano l'assiduità alla messa e alla dottrina cristiana e alle pratiche caritative fu inviato al convento dell'ordine di Forano. Ordinato sacerdote il 4 giugno del 1678, fu lettore di filosofia per i giovani aspiranti al sacerdozio del suo ordine morì nella sua piccola cella il 24 settembre del 1721 una grande folla di fedeli accorse per onorare le sue spoglie custodite nel santuario a lui intitolato che si erge accanto al convento francescano San Pacifico da San Severino Marche il santo che viene ricordato oggi dalla Chiesa Cattolica. Allora apriamo con la prima pagina del centro, poi passeremo al messaggero daremo uno sguardo ai titoli di carattere nazionale che riguardano sia notizie di politica interna di cronaca ma anche di cronaca internazionale. Prima pagina del centro, mare sporco impiegato nei guai, si torna a parlare delle problematiche del mare di Pescara nella scorsa estate, un solo indagato per lo scandalo dell'estate Alessandrini si difende. E poi in alto questa notizia che arriva da Sulmona, piaga assenteismo, il vizietto si ripete nelle asle abruzzesi, ieri un'operazione della Guardia di Finanza a Prato e la Peligna con quattro denunciati. E poi la fotonotizia che arriva da Pescara dove è stato sgomberato un capannone di disperati sulla Tiburtina, vedete nella foto l'operazione di carabinieri e polizia municipale. E poi le cronache, le richieste del PM Crack Pescara, due anni agli ex vertici della Caripe. E poi le ispezioni a scuola, blitz dei nasse all'istituto alberghiero, crepe e umidità e poi a spoltore, rogo di ulivi e mezzi agricoli vicino alla 14. Ieri c'è stato questo incendio che per diverse ore ha mobilitato i vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara che alla fine sono riusciti a domare il rogo che ha distrutto diversi ulivi, mezzi agricoli e autovetture che erano parcheggiate in una rimessa agricola. Allora lasciamo il centro per andare a vedere insieme la prima pagina del messaggero e poi partiremo con le notizie che riguardano la cronaca nazionale e internazionale. Taglia la sanità svolta sui medici, stretta sugli esami inutili, camici bianchi minacciano lo sciopero così lo Stato ci sostituisce la replica del governo, pronti nuovi contratti, assunzioni dei precari e sblocco del turnover. E poi si parla della riforma del Senato, Senato blindato l'accordo nel PD, fuga da Forza Italia, altri nove vanno con Verdini. Poi il processo penale, intercettazioni, primo sì alla delega ma per le norme, tempi più lunghi. E poi il problema che riguarda da alcune ore la Volkswagen, il caso Volkswagen, l'Unione Europea dice inchiesta in tutta Europa, Winterkorn, l'amministratore delegato costretto alle dimissioni subito, Berlino in difesa, non sapevamo dei trucchi. E poi la vicenda migranti, scontro su Schengen e quote l'ipotesi di una guardia di frontiera europea. Poi in alto, vedete il titolo che riguarda il calcio, perché ieri sera si è disputato il turno infrasettimanale di campionato. Non sono mancate le sorprese, pensate che il Frosinone è riuscito a parigiare per 1-1 in casa della Juventus. Disastro Roma, battuta dalla Sampdoria su autogol, formazione blucerchiata che si è imposta per 2-1. Sorpazzo Lazio 2-0 al Genoa, dunque è tornata a vincere la Lazio, ha perso la Roma. Ma soprattutto fa notizia la crisi della Juve, bloccata dal pareggio in casa, dal Frosinone. Siamo alle pagine interne del messaggero, pagina 2, sanità, taglio agli esami inutili, medici in rivolta, sciopero possibile. Dice il ministro Lorenzin, non è una caccia ai camici bianchi. Sindacati noi ridotti a funzionari, sinistra del PD in Trincea, ci sarà da discutere. Vedete questo grafico dove si parla del decreto in cifre, oltre 2 miliardi di risparmi, 180 milioni, la cifra che il governo mira a risparmiare in un anno. E poi 208, le prestazioni su 1.700 che sono state riviste, questi alcuni dei numeri dei tagli alla sanità. Pagina 3, Marenzi rilancia nuovi contratti, assunzione di precarie più tutele. Il governo, presto anche il rinnovo, dicono da Palazzo Chigi, della convenzione con pediatri e medici di base. Non riduciamo i servizi, ma colpiamo gli sprechi per scongiurare i tagli lineari. Andiamo avanti, pagina 4, migranti e scontro su Schengen e quote maggiori controlli ai confini esterni. Resa dei conti con il blocco dell'Est, Renzi si va verso una gestione unitaria, nascerà una guardia di frontiera europea. Vedete nella foto il primo ministro francese, Hollande, poi Angela Merkel. Come detto c'è un blocco di paesi dell'Est che è contrario alla politica dell'Unione Europea sui migranti. E poi Jussoli Soft, accordo di maggioranza, cittadinanza agevolata ai bambini stranieri. Pagina 5, restano i nodi Libia e Siria. Rischiano di far saltare tutto, per Renzi il vertice è un successo, finisce l'Europa dei Veti, cancellato anche Dublino. Per le crisi in Medio Oriente una missione di pace con un massiccio impiego di uomini. E poi arriva dalla Germania questa notizia, emergenza nel campo di Menster, Germania 50 rifugiati avvelenati dai funghi. In basso ci si parla di misure che potrebbe prendere il governo, pronto un piano nazionale per combattere tratta e sfruttamento. Siamo a pagina 6 dove si parla del caso Volkswagen, Winter con l'ascia, Berlino si difende, l'Unione Europea dice tolleranza zero. Bruxelles, indaghi tutta Europa, dice l'Unione Europea. Per Wolfsburg quattro candidati, il governo tedesco, accuse false, non sapevamo della truffa. Vedete nella foto l'ormai ex amministratore delegato di Volkswagen, Winterkorn. Il ministro del Rio dice abbiamo chiesto una verifica approfondita, poi decideremo in tempi brevi. Vedete in basso Stati Uniti e Germania, guerra di spie per il primato economico. E dunque questa questione Volkswagen potrebbe avere conseguenze e ripercussioni importanti anche in questa guerra tra Stati Uniti e Germania per il primato economico. Pagina 7, si fanno largo i modelli ibridi, regole più severe per il diesel, i controlli diventeranno più stringenti, ma la fase di passaggio genera incertezza. Il colpo arriva in un momento in cui il mercato europeo era in buona ripresa. Vediamo questo approfondimento. Nel nostro paese si temono effetti negativi su molte imprese fornitrici del colosso tedesco. Vediamo ancora in basso, i tedeschi hanno avuto incentivi per 51 milioni di dollari negli States. La filiale del gruppo di Wolfsburg ha ingaggiato lo stesso studio legale che difese la BP nel disastro in Messico. Andiamo ancora avanti. Pagina 9, si parla di politica interna, in questo caso della riforma del Senato. Patto PD, ma c'è il caso Calderoli. Suggelata l'intesa su tre punti, una legge ordinaria definirà le modalità di scelta dei senatori tra i consiglieri regionali. Il leghista conferma, pensate, 85 milioni di modifiche. Alto là del presidente Grasso, offese le istituzioni, dice Grasso, emendamento dei Renziani per abolire Palazzo Madama. E poi in basso, la grande fuga da Forza Italia. Berlusconi fermo. Se non mi riabilitano, non posso agire. C'è la grande fuga da Forza Italia. Ieri altri nove parlamentari sono passati dal partito di Berlusconi all'ala di Verdini, il partito che Verdini ha in pratica creato per dare una mano al governo. Pagina 11, pensioni. Il governo stringe sulla platea. Oggi Padoane e Poletti in Parlamento, soluzione per gli esodati. Tra le lavoratrici potrebbero essere privilegiate quelle con figli. Le simulazioni per chi lascia 63 anni. La penalizzazione si aggiunge all'effetto anticipo. Il taglio complessivo è del 20%. E poi c'è Standard Poor, l'agenzia di rating americana, che dice Italia fuori dalla recessione, ma la ripresa ora stenta a decollare. La crisi dei mercati emergenti rallenta la crescita. Ci vuole tempo perché il Job Act abbia effetti, dice sempre la Standard Poor. E poi si parla della manovra del governo giro di vite su 3.000 partecipate nel mirino le società statali o locali che hanno più amministratori che dipendenti. Ce ne sono davvero tante. Pagina 13, siamo alle intercettazioni. Primo sì alla stretta via libera, alla Camera, al disegno di legge e di riforma della giustizia penale. Show del Movimento 5 Stelle, protesta dell'Associazione Nazionale Magistrati, ma il PD dice conciliare informazione e privacy. Al governo la delega per disciplinare l'utilizzo degli ascolti. Tra le altre novità, pene più severe per scippi e rapine e nuovi termini. Andiamo ancora avanti, siamo a pagina 15 del messaggero. La visita del Papa negli Stati Uniti. Il Papa ai Vescovi americani dice mai più pedofilia, il pontefice alla Casa Bianca da Obama. Io figlio di migranti. Il Presidente risponde grazie per aver scosso le nostre coscienze. Vedete nella foto il Papa con Obama e la moglie. Bergoglio ricorda Martin Luther King e le vittime innocenti dell'aborto. Il clima un'emergenza da affrontare subito. E poi testate nucleari americane in Germania. La Russia protesta e prepara i suoi missili. L'ammodernamento dell'arsenale atomico NATO in Europa dovrebbe riguardare anche la base di Aviano, a base italiana che si trova non lontano da Vicenza. Pagina 17. Siamo alla cronaca nazionale. Regione ha processo l'ex capo di gabinetto. L'inchiesta sulla gara da 91 milioni di euro per l'appalto del CUP nel Lazio. Chiesto il rinvio a giudizio per Venafro. Per l'accusa ci fu un accordo lottizzatorio tra coppi. Intanto scade il bando per gestire il servizio. Tagliati 380 posti di lavoro. E poi Olivetti morti per amianto. Il PM chiede il giudizio per De Benedetti e altre 27. Per l'inchiesta secondo l'accusa le vittime furono 14. Andiamo ancora avanti. Cronache italiane. Iara uccisa nel campo. Stringeva nel pugno. L'erba ancora in terra. Il deritto della tredicenne al processo. Parla il colonnello dei Ross. Bossetti tentò la fuga durante il blitz al cantiere per l'arresto. E poi falso allarme bomba pentola sui binari allarme a Genova. E poi a Milano coppia dell'acido. Alex era lo stratega, il presunto basista ai giudici. E poi Ceste, il killer e il marito. Condannatelo a 30 anni. Parliamo del processo per la morte di Elena Ceste. La richiesta del PM al processo di Asti. La famiglia della vittima chiede 2 milioni di risarcimento. Lui gli manda un bacio. Siamo alle pagine dell'economia. Draghi pronto a rafforzare il bazooka. L'inflazione resta vicina allo zero. La crescita dell'eurozona è graduale. Se necessario modificheremo il QE in quantità. Serve tempo per capire se il rallentamento, dice Draghi, degli emergenti è temporaneo. L'Unione Europea ha bisogno di un centro politico operativo. E poi sotto le dichiarazioni del presidente di Confindustria Squinzi, che dice nella legge di stabilità incentivi per l'edilizia. Ancora avanti, Padoan Banche, vertice al tesoro, per premere sull'acceleratore. Questo è il titolo che riguarda la situazione banche-governo, proprio alla luce di questo vertice. Siamo arrivati poi all'inserto macro. Allora possiamo lasciare il messaggero per tornare al centro e andare a vedere le prime pagine di cronaca, prima di concentrarci sul meteo con il nostro Giovanni De Palma. Tra qualche minuto parleremo delle previsioni per i prossimi giorni, le prossime ore. Pagina 2 del centro. Assente isti. Timbrano il cartellino e via al baro in palestra. Scandalo al distretto sanitario di Prato-La Peligna. Denunciati, direttore, tre dipendenti. Dunque questa vicenda che arriva da Prato-La Peligna. Atri rubano per mesi ora all'ASL Terramana. Indagati in 10. Questa notizia che arriva da un'altra zona della nostra regione. E a Prato-La, parlando dell'operazione di ieri della finanza, è stata avviata anche l'indagine interna. e l'ASL avverte rischiano il licenziamento. Allora su questa vicenda andiamo a vedere il servizio che abbiamo realizzato. Timbavano il cartellino ed andavano via. Per questo motivo sono state denunciate 4 persone a Sulmona per assenteismo sul posto di lavoro. L'operazione della Guardia di Finanza. Tre dipendenti dell'ASL, uno Avezzano sul Monal Aquila, sono stati denunciati così alla Procura della Repubblica per assenteismo. I militari, attraverso appostamenti, pedinamenti e servizi di osservazione, hanno monitorato per mesi alcuni dipendenti, che durante l'orario di lavoro, dopo aver timbrato, erano soliti assentarsi per recarsi nelle proprie abitazioni, o andare a fare shopping, o andare a fare la spesa. Alcuni non si presentavano per niente al lavoro e successivamente regolarizzavano la loro presenza mediante comunicazione sostitutiva, dichiarando di non aver strisciato il badge per dimenticanza o per smarrimento. I finanzieri hanno acquisito in questi mesi tutta la documentazione necessaria e a conclusione delle indagini hanno potuto documentare in maniera certa l'uscita dal lavoro e l'ingresso, ad esempio, nelle loro case, mentre risultavano regolarmente in servizio. A loro sono contestati i reati di truffa nei confronti della pubblica amministrazione e falso ideologico. Nessun controllo è stato effettuato però dai funzionari responsabili del personale, per cui è stato segnalato anche il direttore del distretto sanitario per l'ipotesi di reato di abuso d'ufficio e concorso nel reato di truffa con i dipendenti. È stata interessata della vicenda anche la procura regionale della Corte dei Conti per poter recuperare compensi percepiti illecitamente. Siamo alle altre pagine del centro, cronaca nazionale, governo si parla di riforme, senato accordo nel PD, tre emendamenti unitari e poi intercettazioni varata alla stretta. Magistrati critici e deludente dicono. E poi lo scandalo, Volkswagen si dimette l'amministratore delegato, l'Unione Europea agli Stati, indagate il CDA della Casa di Wolfsburg accetta il sacrificio di Winterkorn e lo assolve. Da ogni colpa inchiesta interna cadranno altre teste. Il titolo recupera in borsa il 5%, il rating sotto osservazione. Poi futuro diesel non compromesso. L'esperto dice nelle norme degli americani una fobia contro gli ossidi di azoto. E poi ci sono i precedenti perché vent'anni fa toccò alla Cadillac in frazione nel 1995. Mercedes sotto accusa nel 2014 per i refrigeranti. Politica nazionale, in questo caso si parla di immigrazione, la crisi in Europa e i riflessi nel nostro paese. Renzi dice ora tutti su posizioni italiane. Vertice a Bruxelles, Juncker chiede più fondi per aiutare i rifugiati e i paesi colpiti guardie europee alla frontiera in mare. E poi quel retroscena ora è resa dei conti con i ribelli dell'est, ma Orban, il primo ministro ungherese, non ci sta. Vedete in basso l'esodo che rischia di riaccendere l'odio nei Balcani e scontro tra Serbia e Croazia per le frontiere, ma Bruxelles avverte abbassare i toni. E siamo alla visita di Papa Francesco negli Stati Uniti, Bergoglio a Obama, l'emergenza clima va risolta subito. Papa alla Casa Bianca su una 500, qui da figlio di migranti, dice il Pontefice. Monito ai Vescovi americani, mai più crimini sessuali. Andiamo ancora avanti, pagina 8 del centro. Tagli degli esami inutili, sindacati dei medici pronti allo sciopero contro questo disegno di legge del Ministero della Salute. Lorenzini, il ministro difende le misure, sanzioli solo in casi provati. Il governo però studia interventi a tutela dei camici bianchi. Poi altre notizie che arrivano dal nostro paese. Scuola, protesta flop, vertice al Ministero. E poi la cronaca, Dasti, caso Ceste, chiesti 30 anni per il marito Uxoricida. E poi a Genova, pentola sui binari, allarme bomba. E in basso, processo Becher, Magnani, Alex, Era, lo stratega, Martina, tiro l'acido a Stefano. Parliamo del processo ai due giovani accusati di aver sfregiato con l'acido un altro ragazzo. Allora, lasciamo queste pagine di cronaca nazionale. E prima di passare alle pagine regionali e provinciali, partendo dal centro per poi proseguire con il messaggero, alle 7.21, apriamo la pagina del meteo. Come sempre, vado a salutare il nostro meteorologo Giovanni De Palma. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, Giovanni, è terminata la fase di bel tempo. Ieri una giornata calda nella nostra regione. Correggimi se sbaglio per un vento di Garbino, di Scirocco, che dir si voglia. Ma questa notte è arrivata la pioggia. Questa mattina i nuvoloni bassi non promettono nulla di buono. Sarà così oggi il tempo? Sarà questo? Sì, Paolo, perché ieri se le temperature sono aumentate per effetto del Garbino, benché precede l'arrivo della perturbazione, oggi il sistema nuvoloso ha raggiunto anche la nostra regione, è inottata, ha dato luogo a delle piogge piuttosto intense, a partire dall'Aquilano e dalla Martica, in estensione poi verso il settore orientale della nostra regione, dove piove ancora in maniera piuttosto diffusa, soprattutto nel pescarete e nel Chietino in particolar modo, ma anche nel vicino Molise ci sono piogge intense anche a carattere temporalesco. Nelle prossime ore continueremo ad essere interessati da questa perturbazione che favorirà ancora delle piogge, localmente anche di una certa consistenza, soprattutto sulla fascia orientale della nostra regione, mentre sulla Martica e nell'Aquilano si affacceranno le schiarite entro la tarda mattinata, fino al primo pomeriggio, le schiarite possibili anche sul versante orientale della nostra regione, ma attenzione perché poi comunque a partire dal pomeriggio, tardo pomeriggio, ma ancor più in serata e in nottata, aumenterà ancora una volta la probabilità di rovesci diffusi, soprattutto stavolta sulla fascia orientale della nostra regione, dove non si scudono delle manifestazioni temporalesche localmente anche di una certa consistenza. Questa situazione continuerà ad essere tale anche nella mattinata di venerdì, perché la perturbazione si posizionerà proprio sulle regioni centrali, quindi i fenomeni tentano ad insistere, la nuvolosità sarà più compatta sul versante orientale della nostra regione, dove ci sarà spazio ancora a delle precipitazioni localmente anche di moderata intensità. Poi la tendenza è verso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire dal pomeriggio, tardo pomeriggio di domani, soprattutto inizialmente sul settore occidentale, in estensione poi verso anche il settore orientale della nostra regione. Poi in fine settimana dovremo avere un tempo sì migliore, ma tuttavia non si scudono degli annuvolamenti, perché comunque l'alta pressione al momento è lontana dal Mediterraneo centrale, quindi ciò favorirà comunque la possibilità di annuvolamenti e comunque le temperature resteranno ancora al di sotto delle medie stagionali, Paolo. Quindi Giovanni, da questo quadro emerge che in quest'ultima decade di settembre il tempo farà un po' i capricci? Sì, perché anche se guardiamo la tendenza per quel che riguarda la prossima settimana, viene subito da evidenziare la possibilità di un nuovo peggioramento del tempo, anche piuttosto consistente, al centro-nord per l'arrivo di un nucleo di aria piuttosto fredda proveniente dall'Europa settentrionale che potrebbe, dico, ma il condizionale è il dobbio per interessare anche la nostra regione e favorire un peggioramento del tempo e anche una generale diminuzione delle temperature. Si tratta di una tendenza questa da confermare nei prossimi giorni, comunque nei prossimi aggiornamenti forniremo tutti i dettagli del caso, Paolo. E dunque bisogna prepararsi a cambiare un po' il guardaroba. Io ringrazio Giovanni De Palma come sempre, grazie Giovanni, appuntamento con te a domani, sempre intorno alle 7.20 nel corso di mattino 6. Buona giornata e buon lavoro. Grazie Paolo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Ringraziamo il nostro meteorologo Giovanni De Palma, vi ricordo per restare informati gli strumenti, ormai che conoscete tutti, il sito www.abruzzometeo.org dove potete trovare tutte le notizie e le informazioni sulle previsioni meteo, aggiornate ora dopo ora e poi la pagina Facebook del nostro meteorologo, uno strumento ancora più importante per certi aspetti perché avete attraverso questa pagina sul social network di interagire con il nostro meteorologo Giovanni De Palma. Noi chiudiamo la parentesi del meteo, torniamo alla nostra rassegna stampa, siamo alle pagine d'Abruzzo del centro. La prima pagina riguarda i test di medicina nelle università abruzzesi, test che si sono svolti nei giorni scorsi e sono arrivati i primi risultati. Tela do io medicina, Abruzzo, bocciati 6 su 10. La d'annunzio chiedi pescare l'Aquila fra i 10 atenei, quasi tutti del sud, con votazioni più basse, candidati somari o preparazione inadeguata? Questa la domanda. E poi c'è il dirigente dello scientifico di Pescara da Vinci Giuliano Bocchia che dice da noi in tanti del sud, ma le scuole devono cambiare. Andiamo avanti, siamo a pagina 15, parla il capo dell'ANAS Armani. Ieri in visita in Abruzzo, in mattinata all'Aquila, nel pomeriggio a Pescara, nuove strade, meglio sistemare quel che c'è sulla bussi l'Aquila. Molti tratti sono ok, va rivisto l'ingresso in città e si farà l'allungamento dell'asse attrezzato di Pescara fino al porto. Noi siamo andati ad ascoltare proprio il presidente nazionale dell'ANAS Armani. Ascoltiamo. Noi stiamo facendo un accordo con la regione proprio per pianificare le strade. La disponibilità certa di finanziamenti per l'ANAS è il modo migliore per garantire che gli investimenti promessi o almeno pianificati vengano completati su direttrici intere e non solo a pezzetti come è stato fatto fino ad oggi. Così Gianni Vittorio Armani, presidente nazionale ANAS, nella sua prima tappa della giornata abruzzese nella nuova veneristica sede di Pile Alto all'Aquila. Sul tavolo tante opere importanti, in parte avviate, altre da completare, altre ancora da progettare. La dorsale adriatica, ad esempio, ovvero il collegamento a Matrice e l'Aquila a Bussi per avvicinare di un'ora di viaggio il capoluogo a Pescara, l'ultimazione della Teramo Mare, il prolungamento dell'asse attrezzato con il porto di Pescara, il collegamento Loreta-Purtino-Penne, l'adeguamento dell'assatale 81-84 nella Val di Sangro, la pedemontana Abruzzo Marche. Opere strategiche e ambiziose, attese da decenni, e alla portata di mano e di budget, assicura Armani, ad una condizione, ma è più i fondi destinati ad opera allo stato preliminare, che non siano condivise in tutto e per tutto dal territorio e dagli enti locali, perché la priorità è evitare contenziosi lungaggini burocratiche, il blocco dei cantieri. Il riferimento di Armani è anche al dissidio che dividi i sindaci, presenti in sala, sul tracciato dell'otto della nuova statale 17 da Bazzana-Poggio-Vicenze, tratto cruciale della dorsale adriatica. Trovare un accordo con gli enti locali è fondamentale prima di iniziare, per poi non trovare il disaccordo quando si sta in cantiere. Il disaccordo in cantiere è costosissimo per tutti, è costosissimo per le imprese, perché poi hanno il cantiere bloccato, è costosissimo per l'ANAS, perché poi va incontro a un contenzioso sicuro con le imprese stesse. Massima sintonia con l'ANAS assicura il presidente della regione, Luciano D'Alfonso, nel voler risolvere le strozzature del Novecento. Che hanno tenuto lontano questo centro rispetto alla costa e che hanno fatto sì che non ci fosse neanche la modernizzazione. Al primo incontro poniamo il tema di Amatrice, l'Aquila, Navelli, Pescara. Al secondo incontro affronteremo il tema dei centri abitati della costa che sono con il più alto numero di incidentalità, secondo me, del centro sud. Questo è il servizio sulla visita ieri in Abruzzo del presidente dell'ANAS, Gianni Vittorio Arbani. Noi ci fermiamo per qualche istante e poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Seconda parte di Mattino 6, siamo alle pagine provinciali dei nostri giornali. Partiamo dal centro, cronaca di Pescara, inchiesta a mare, c'è un indagato, un dipendente del comune, tre magistrati al lavoro sullo scandalo dell'estate, sequestrati due computer a Palazzo di Città. Alessandrini, ascoltato dalla Commissione regionale di vigilanza, continua a difendere il suo operato. Dice il sindaco, non c'erano rischi per la salute. E intanto, vedete in basso, la condotta di via Raiale si rompe ancora, nuovo allarme, le acque nere finiscono per alcune ore nel fiume, poi il danno viene riparato. Pagina 2, per quanto riguarda la cronaca di Pescara. Crac, Pescara Calcio, condannate gli ex vertici della Caripe. Il PM chiede due anni di reclusione a testa per Mancini, Coccioli e Di Berardino. Domani la decisione del GUP anche per gli ex presidenti del club Soglia e Pincione. Sasso contro il bus e dei tifosi salernitani, in quattro restano feriti. Droga arrestata a 76 anni. Proseguiamo, sempre cronaca di Pescara. In assa all'alberghiero, crepe, umidità, blitz dei carabinieri e dei vigili del fuoco. In via dei Sabini ispezionate anche le sedi di Via Tirino e di Piazza del Grue. E poi si parla di trasporto pubblico, GTM, nuovi orari, tagliate le corse sulle linee 9 e 10. Proseguiamo, pagina 22, si parla anche in chiave locale dello scandalo Volkswagen. Volkswagen con il trucco, mossa della concorrenza. Il concessionario Paglione dà una lettura tutta sua dello scandalo emissioni e rilancia, ma che calo degli ordini. Ora venderemo ancora più macchine, dice l'imprenditore pescarese. Proseguiamo, pagina 23, in motocicletta con stile per battere il cancro. Domenica la quarta edizione di questa iniziativa, raduno delle moto classiche per raccogliere fondi per la ricerca scientifica e poi Open Day Canto via i corsi per la voce. E poi un'altra iniziativa importante, sabato e domenica a Pescara con l'Unicef, bimbi troppo seduti, tutti a fare sport in Piazza Salotto. Vi preannuncio che oggi a tal proposito vi proporremo un servizio proprio su questa iniziativa che è stata organizzata dall'Unicef in collaborazione con l'UISP Abruzzo e Molise. E poi ancora la band Croma Latina accende la festa al dollaro, si parla di divertimenti. E poi pagina 24 di Francavilla, area metropolitana, linea ADSL in tilt a Pretaro, via la raccolta di firme. Francavilla, oltre mille utenti del popoloso quartiere, in difficoltà da agosto con il servizio Telecom, l'ex assessore di Pillo dice ecco come aderire alla petizione. Andiamo ancora avanti, dopo le pagine dell'inserto, siamo alla cronaca di Montesilvano, emergenza, aprono i cantieri dopo le proteste e via libera, le bonifiche contro le alluvioni. E poi schianto di tre auto nella galleria ai pianacci, resta in prognosi riservata la donna ferita sotto il tunnel. E poi c'è la protezione civile nelle scuole, siglata a una convenzione con i volontari per garantire la sicurezza degli alunni. E poi al Village, un weekend, scusate, a tutta musica, il concerto pop dei Volksplosion e shopping all'Outlet di Città Sant'Angelo. E siamo alla cronaca che arriva dalla provincia di Pescara, a Spoltore in questo caso vanno a fuoco ulivi e mezzi agricoli. Allarme a Spoltore, un incendio è divampato nelle campagne a ridosso dell'A14 e ha distrutto una rimessa agricola, pompieri a lavoro per molte ore. Siamo a Pianella dove il sindaco Marinelli assegna nuove deleghe agli assessori. E poi, tornando a Spoltore, le tre quinte di Santa Teresa saranno ospitate a Caprara, parliamo ovviamente di scuola, ancora cronaca dalla provincia di Pescara, Popoli si mobilita per l'ospedale contro i tagli del Ministero, si delinea un accordo tra i partiti di maggioranza e opposizione con i comuni di ogni colore politico per garantire il diritto alla salute nei territori del centro Abruzzo e scongiurare lo spopolamento. A tocco da Casauri ha lavori antisismici nel palazzo della Centerva. E poi pochi medici e infermieri al San Massimo, siamo all'ospedale di Penne. Pasqualone della FIALS dà l'allarme sul degrado dell'assistenza sanitaria nel comprensorio Bestino. Sempre a Penne, ma cambiando argomento, boom di presenze al Duomo. E siamo alla pagina di Chieti del centro, in particolare a Casa Canditella, famiglia rapinata con la pistola alla testa, raid nella notte nella villa di una coppia di professionisti, tre banditi a volto coperto hanno svuotato la cassaforte. E poi a Chieti lite tra parenti, ferito un 38enne. E poi si uccide a 16 anni con la pistola del padre. Tragedia in Emilia Romagna, lo studente, figlio di un ex carabiniere di vasto. Dolore e incredulità. Siamo di nuovo a Chieti, i nuovi revisori bocciano il bilancio. Gli esperti in comune, entrate sovrastimate e maxi indebitamento, dicono i nuovi revisori. E poi a Tessa e Paglieta, incidenti sul lavoro. Due feriti, operai cadono dalla scala in fabbrica e nel cantiere dell'elettrodotto. Siamo alla pagina dell'Aquila, del quotidiano Il Centro. Crollo con 13 vittime, condanna e sconto. La tragedia di via d'annunzio, omicidio colposo, plurimo e lesioni. Questa l'accusa, i giudici hanno ridotto da tre anni e mezzo a 22 mesi la pena all'ingegnere Cimino che diresse i restauri del palazzo. E poi siamo a Sulmona, giovane scomparso da due mesi, calabrese. Era atteso alla stazione ieri sera il caso nella nota trasmissione. Chi l'ha visto? Dirai 3. E poi incidente a Prezza, nel fosso per evitare il cinghiale, tre feriti, due coniugi ed un amico. E poi l'assessore pendolare, il comune, paga i viaggi. Avezzano, autorizzati rimborsi ad Angelini che vive a Carsoli. Ma intanto scoppia la polemica. E siamo alla pagina di Teramo, del centro. Il crack della banca, il caso Tercas, a giudizio di Matteo e Nisi. Con loro saranno processiati altri 12 imputati. Il gruppo di Roma assolve Sarni, l'unico che aveva chiesto il processo abbreviato. E poi insegnante invalida, trasferita a 250 chilometri. Per il decreto Buona Scuola, la precaria da Morrodoro deve andare in provincia di Pesaro. Siamo arrivati alle pagine dello sport. Dunque passiamo al messaggero per andare a vedere insieme le pagine della cronaca locale, proprio nell'inserto Abruzzo del quotidiano romano. Partiamo proprio dalle pagine di cronaca regionale del messaggero Crack Tercas, 14 a giudizio. Anche sul messaggero c'è questa notizia di apertura sulla vicenda della banca Teramana. Gli ex dirigenti saranno processati a gennaio. Assolti la banca e Sarni, tra i nomi di Maggiore Spicco, Di Matteo, Nisi, Di Stefano e Samori. Poi le altre notizie che arrivano dalla prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Vini, Gambero Rosso, Brinda con l'Abruzzo, si susseguono i riconoscimenti. Stavolta ben 15, tre bicchieri. E poi vedete la foto di centropagina, corte d'appello, il ritorno di Sanitopoli. E poi all'Expo, Nutrirsi con stile appuntamento in chiave abruzzese. Siamo alla seconda pagina della cronaca regionale del messaggero. Torna Sanitopoli, abbiamo visto dalla prima. Da domani in appello, a sette anni dagli arresti e a due dalla sentenza di primo grado, con le condanne di Del Turco e altri otto, si riparte dall'Aquila. Il ricorso dei PM pescaresi punta a ripristinare la concussione in luogo della corruzione. Ma c'è l'ombra della prescrizione. E poi si parla della visita del Presidente nazionale di Anas in Abruzzo. Inizia il potenziamento della rete viaria firmata all'intesa tra Regione e Anas. Priorità, rapido collegamento l'Aquila-Pescara e Fondo-Valle-Sangro. E poi la politica. Selle dice sì a Mazzocca, sottosegretario, ma dà ad Alfonso una fiducia a tempo. E poi incompatibilità ambientale. Si parla del caso del dirigente rimosso all'Aquila. Siamo proprio alla pagina dell'Aquila. Del messaggero Crolli, dimezzata la pena per Cimino, nella palazzina di Via D'Annunzio. Persero la vita 13 persone, tre anni e mezzo, in primo grado, un anno e dieci mesi. In appello Rossi, difensore dell'ingegnere, non commenta ma annuncia il ricorso. In Cassazione l'affronteremo con più leggerezza. E poi opere gonfiate per gli edifici privati. L'imprenditore Ciotti parteggia. E poi in comune i precari occupano la stanza del sindaco. E poi lavori fermi. Stop al finanziamento. Sempre dall'Aquila. E questa è la notizia invece che arriva dalla Valle Peligna. Timbravano la Asle, uscivano dall'ufficio. Scovati tre furbetti, avviate un'indagine interna. Segnalazioni e consigli di disciplina. Silveri dice da contratto è previsto anche il licenziamento. Siamo in Valle Peligna, ma per un'altra notizia, punto nascita. I sindacati dicono Ranalli si dimetta a vicenda dell'ospedale di Sulmona. E poi Pacentro, caso della NCC, testimoni nei guai. E poi Parapiglia sulla 24, due denunciati. C'è stata questa lite tra Carsoli e Tagliacozzo. E poi falsi tassisti. Scatta l'inchiesta coinvolto un segretario comunale. Siamo a Piana del Cavaliere. L'autista svolgeva la sua attività solo a Fiumicino. In Marsi, Camagliano dei Marsi prometteva permessi facili nei guai. Nota professionista. E siamo alle pagine di Pescara del Messaggero. La prima pagina riguarda la notizia del crack del Pelescara Calcio. Il PM chiede 10 anni. Richiesta di condanna nel processo contro gli ex vertici della società Bianca Azzurra e di Caripe. Accusati di bancarotta. Nicola Lisi, all'epoca presidente del CDA Bianca Azzurro, rischia 4 anni. Due anni a testa. Mancini, Coccioli e Di Berardino. E poi il blitz. Clandestini, tossici e prostitute. Sgomberato il rifugio dei disperati. Polizia Municipale, carabinieri attiva. Lavoro in un capannone abbandonato lungo la Tiburtina. E poi ispezione a scuola. Il NAS. Quante carenze all'alberghiero. Proseguiamo pagina 2. Scheletri di biciclette in tutte le strade. L'altra faccia dei furti. Pescara invasa da rottami senza ruote. Sellini, manubri. Fioccano le segnalazioni. I vigili faticano a fare pulizia. E poi conti risanati grazie a tasse e blocco dei pagamenti. Si parla del comune di Pescara e della polemica maggioranza. Opposizione. Mare sporco, sequestrate le copie dell'ordinanza. E poi sabato la polizia del fiume in azione. Gli studenti dell'Aterno Mantonè. E poi invece soccorso pubblico e solidarietà. L'esercito buono della Croce Rossa. Proseguiamo. Ancora cronaca di Pescara e area metropolitana. Life care. Il ritorno di Nicola Petruzzi. Apre domani sulla Tiburtina. Il nuovo poliambulatorio del BIG della sanità privata. Da anni emigrato nel Veneto. Radiologia, dei sargeri e disturbi dell'alimentazione. I campi di interesse della struttura destinata a rivoluzionare il mercato. E poi uno progetto per il Carmine, anziani e disabili. Megacentro, Asl, Appenne. E poi Francavilla. Ad agosto senza internet. Il quartiere Pretaro contro la Telecom. Proseguiamo. Siamo alla pagina di Chieti. Del messaggero incubo in casa del Duca. Ci hanno puntato le pistole. Rapina da oltre 200 mila euro. Nell'abitazione del noto oculista. Il figlio dell'ex parlamentare europeo. Afferrato dal collo. E caccia alla banda. Svaliggiarono le poste. Condannati quattro pugliesi. Il colpo a rapino fruttò 500 euro. Cade per tutti davanti al GIP. Il tentato omicidio. Poi comune. Revisori dei conti. In bilancio. Criticità mai sanate. E poi rogo nella scarpata. Fumo sull'asse attrezzato. Vicino Megalò. Proprio al confine con la provincia di Pescara. E poi esami facili in Ateneo. Tutta una bolla di sapone. Tutto girava attorno a crediti universitari riconosciuti. Alla segreteria del direttore generale. Il PM dice nessun illecito. Siamo alla cronaca di Lanciano Vastortona. Nella notte il destino del comune. Il consiglio decisivo. Siamo a Dortona. È iniziato nella tarda serata di ieri. Sull'amministrazione pendeva la spada del commistariamento. Ma l'assemblea potrebbe anche essere annullata dal prefetto. Perché qualcuno considera la convocazione illegittima. Poi cronaca Tessa. Operario della Bimo. Cade da una scala. Interviene l'eliambulanza. Concerti e festa di San Michele. Caccia all'area per gli eventi. Siamo a Vasto. E poi Regina Di Miele. Weekend di dolcezze in provincia di Chieti. A Tornareccio per questa importante manifestazione. Siamo alle pagine di Teramo e provincia. Crack Tercas. 14 ex dirigenti. A giudizio. Assolta la banca. Il processo fissato dal GUP di Roma. Per il 13 prossimo gennaio. Oltre all'istituto esce di scena anche l'imprenditore Sarni. Nei guai Samori. Ma su questa vicenda noi andiamo a vedere insieme il servizio che è stato realizzato dal nostro Alfredo Primante. 14 rinvia giudizio e due assoluzioni. Lo ha deciso il giudice per le udienze preliminari di Roma Giulia Proto. In merito al procedimento per il crack della banca Tercas. Tra gli imputati del processo che inizierà il prossimo 13 gennaio. c'è anche l'ex direttore generale dell'istituto di credito Teramano Antonio Di Matteo e l'avvocato Giampiero Samoriggia, leader del movimento politico di centrodestra Mir. Il giudice, al termine del rito abbreviato, ha assolto per non aver commesso il fatto l'imprenditore Antonio Sarni e fatto cadere le accuse nei confronti dello stesso istituto di credito. A nove degli imputati inoltre viene contestata l'associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità. La procura ipotizza a vario titolo anche l'ostacolo alle funzioni di vigilanza, l'appropriazione in debita, la bancarotta fraudolente e il riciclaggio, ipotizzando relazioni privilegiate di affari incentrate sulla figura di Antonio Di Matteo, direttore generale di Banca Tercas dal giugno 2005 al 30 settembre 2011. Per l'accusa, il reato di appropriazione in debita sarebbe provato dal fatto che gli imputati si sarebbero appropriati di ingenti somme di denaro grazie a delibere carenti nell'analisi sulla capacità di rimborso degli imprenditori affidati e spesso adottate in assenza dei requisiti di assoluta e improrogabile urgenza. Siamo alla pagina di Teramo del messaggero comune, autovalutazione dei dirigenti bloccata, un altro colpo è stato assestato all'indirizzo della casta municipale, dunque spending review in primo piano, poi cronaca, arrestato lo scippatore dell'anziana piazza Dante, poi le opere più belle partono per l'expo e poi strade, le buche ormai sono un'emergenza. Siamo alla pagina di Giulianova Roseto Valvibrata, Giulianova Cimitero, il sindaco chiama i carabinieri, chiesto l'intervento dei militari anche per bloccare i fenomeni di prostituzione che avvengono nei bagni. Mastromauro annuncia pure la presenza dei vigilantes nei parchi cittadini a partire dal mese di ottobre. Alba Adriatica, centro termale di talassoterapia, parte il comitato e poi capitale della cultura, anche Roseto in Belgio, donne, sette racconti, un'unica storia, il libro presentato della scrittrice Alessandra Bucci e poi a Giulianova arrivano 200 nuovi cestini. Siamo alle pagine dello sport, ma prima di passare proprio allo sport dobbiamo andare a vedere insieme le prime pagine e le pagine interne del quotidiano La Città di Teramo. Iniziamo proprio dalla prima pagina. Crack Tercas, processo a gennaio, 14 rinvia giudizio, imputati di Matteo, Nisi e gli imprenditori amici del DG Salva la Banca. Questo è il titolo principale, poi ci sono altri titoli e altre notizie che ritroveremo all'interno. Dunque andiamo a vedere, pagina 3, infrastrutture chiave di volta della Regione, protocollo ANAS Regione per il potenziamento della rete stradale D'Alfonso, emergenze e vuoti da colmare. Vedete la foto stretta di mano tra il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso e il Presidente di ANAS Italia, Armani, proprio al termine della firma di questo protocollo. E poi si parla di clima, l'assessore alle politiche agricole annuncia l'investimento, dice l'assessore Pepe Labruzzo, avrà 14 stazioni, meteo in più. Andiamo avanti, pagina 5, inchiesta Dirti Soccer, Teramo Calcio, resta tutto così com'è, respinto il ricorso, questa è una notizia importante della serata di ieri, dicevo respinto il ricorso del Forlì per un ulteriore blocco del campionato, per il merito servirà un'altra udienza, ma il Teramo scenderà a questo punto in campo regolarmente sabato nella gara casalinga con il Savona. E poi 14 rinvia giudizio per il Crack Banca Tercas, il processo a gennaio, vedete questa doppia pagina dedicata proprio a questa vicenda. E poi cronaca, Teramo arrestato lo scippatore di via Brigiotti, un mese fa strattono il ferino anziana per una catenina, macedone di 27 anni, rintracciato dalle telecamere. Telecamere, poi politica, due agenzie di assicurazione nei guai per truffa ai danni di ignari clienti. E siamo a pagina 9, con il nuovo ISEE riammessi 13 disabili, la protesta è servita dopo i controlli, sarà stilata una nuova graduatoria per ottenere l'assistenza domiciliare. E poi stagione dei concerti, Tancredi, parlamentare dell'NCD, interroga il ministro per i fondi negati alla Riccitelli di Teramo. Siamo a pagina 10, i camper chiedono stalli attrezzati alla stazione, con quattro colonnine a pagamento, dotate di acqua, luce e pozzo nero. Si creerebbe un'interessante economia. E poi parliamo in questo articolo, a fondo pagina si parla di rifiuti, petizione popolare per cambiare il bando della Teramo Ambiente. Proseguiamo, pagina 11, il sindaco ammette i ritardi su Via Longo, il sindaco di Teramo Brucchi replica ad Alberto sull'housing sociale, massima sensibilità per gli inquilini delle palazzine. Ancora avanti, pagina 12, Luca Scarpantoni, la guida dei giovani avvocati, eletto presidente lunedì scorso durante l'assemblea dell'associazione, che ha rinnovato anche il consiglio direttivo. Direttivo, proseguiamo, siamo a pagina 15, sempre del quotidiano La Città. Si parla di provincia, due medici a processo per la morte della bambina, la piccola Francesca Sofia di Sant'Egidio, stroncata da un doppio arresto cardiaco all'ospedale di Ascoli, Piceno. E poi cronaca giudiziaria, droga nascosta nelle scatole delle banane scarcerati, tre marocchini. E poi a Giulianova, i vertici della guardia costiera incontrano i pescatori del Coggevo. Pagina 14, cronaca della Val Vibrata, aggredito a colpi di cesoia per un tablet marocchino di 20 anni, rapina un diciottenne seduto su una panchina della pineta di Alba Adriatica. A Sant'Egidio, CGL contro l'amministrazione per gli straordinari non pagati, sempre nel centro vibratiano. Il PD chiede altri chiarimenti sulla CPL cronaca e vade di casa per fare un giro sulla bonifica. I carabinieri non lo trovano a casa e lo rintracciano sulla strada provinciale 1. Siamo alla pagina che riguarda Tortoreto. Faraone fa scuola sulla sicurezza del lavoro. Grande partecipazione per l'evento formativo che ha coinvolto anche alcune istituzioni polacche. Proseguiamo pagina 18, siamo alla cronaca che arriva da Giulianova in Mosciano. Ecotedi garantirà maggiore pulizia dopo le polemiche. Arrivano 200 nuovi cestini e personale motorizzato. Siamo a Giulianova. E' sempre a Giulianova cronaca sorpreso in casa con 27 grammi di eroina ed un tablet rubato. Questa operazione dei carabinieri. E poi sano e salvo trovato a Cologna il pensionato che era scomparso. E poi la toponomastica. In questo caso restiamo anzi a Giulianova la pista ciclabile intitolata alla guardia costiera e per il sociale. Pronti voucher per gli asili nido. Ancora avanti pagina 19. Siamo a Roseto, Pineto, Atri e Silvi. A Roseto rischia la paralisi. Dopo lo schianto, parliamo di cronaca, a Caposala del Mazzini si scontra contro un albero. Sulla Nazionale, proprio nel centro della cittadina adriatica. La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Servizi culturali, sportivi e turistici affidate alle cooperative sociali. Sempre a Roseto, vigili in borghese contro le discariche abusivi. E poi a Silvi, boom di turisti ciechi sulle spiagge di Silvi, Marina, assieme ai polacchi, rappresentano una buona fetta dei visitatori in bassa stagione. E poi il gemellaggio quasi pronta, la marionetta che sfilerà in Belgio. Siamo alla pagina della cultura. Quando Celommi mise K.O. Cavacchioli all'esame per l'Accademia, l'artista Terramano fu bocciato. Vinse il collega più anziano in commissione, anche della Monica. E poi ancora una notizia che riguarda la cultura. A passeggio di notte su spiagge di Luna, per molti le Seychelles, sono il paradiso terrestre. A quanto pare vero, lì madre natura. Non si è risparmiata il sogno di tanti abruzzesi che appunto sognano le Seychelles. Abbiamo parlato già del Teramo per quanto riguarda lo sport, proprio dalle prime pagine della città di Teramo. Allora possiamo tornare sul centro e poi sul messaggero per vedere proprio gli altri titoli che riguardano lo sport. Sport regionale dal centro. Il Pescara piace e diverte, ma serve concretezza. La Padula e Caprari hanno convinto. Adesso c'è bisogno dei gol di Cocco. Pescara che sabato giocherà a Vicenza. Una gara sicuramente importante in vista della sfida che si giocherà in Terra Veneta. Campagnaro ancora indisponibile. Recupera forte. Slitta la prima convocazione del difensore argentino. Aresti assente a Vicenza per una tonsillite. Parliamo ancora di Serie B del Lanciano. Com'è cresciuto Aquilanti? Sembra il miglior treste, il ragazzo della 167. L'unico lancianese. Il gol resta il grande cruccio. Dunque ottimo l'inizio di campionato per Aquilanti. L'unico lancianese che gioca con i rossoneri. Poi siamo la Lega Pro. L'udienza del Coni. Teramo sospiro di sollievo. Sabato finalmente si gioca. Seduta interlocutoria nella forma, ma dall'esito positivo nella sostanza. La discussione è rinviata al 9 ottobre. Nel frattempo i campionati vanno avanti. Come detto, sabato si giocherà alle 14. Teramo, Savona. E poi siamo alla Lega Pro. Parliamo dell'Aquila. C'è Benasiain, Dubbio. Acqua Santa, intitolato da tardi. Intanto si guarda anche alla gara di sabato ad Ancona. Poi questo articolo che riguarda la Serie D. Volto Tumefatto. Due turni di squalifica. Serie D. Tariuk. Domenica aveva mandato in ospedale Shintu con una gomitata. Siamo alla pagina del calcio dilettantistico regionale perché ieri si è giocato un turno di campionato in eccellenza. Andiamo a vedere i risultati delle gare che si sono giocate proprio ieri pomeriggio. Quarta giornata. Alba Adriatica, Montorio 4 a 0. Francavilla, Martinsicuro 1 a 1. Miglianico, Valdisangro 1 a 0. Morodoro, Pineto 0 a 0. Paterno, Cupello 2 a 1. San Salvo, Celano 2 a 0. San Buceto, Angolana 2 a 0. Bastese, Torrese 1 a 1. Acqua e Sapone, Capistrello 0 a 2. Vedete in classifica al primo posto c'è il San Salvo. Con 9 punti, chiudiamo con le pagine che riguardano lo sport del messaggero. Pescara, sbagliando, si impara. La squadra di Oddo convince sul piano della manovra, crea molto ma non riesce ancora a finalizzare a dovere. Parla Valotti, autore del gol del momentaneo vantaggio con la Salernitana e dice che dobbiamo chiudere le partite. Il Lanciano si gode una difesa di ferro. Zandrini, L'Aquila, c'è bisogno di tempo. E poi il calcio di eccellenza, abbiamo visto i risultati. Bastese bloccata dalla Torrese, San Salvo in vetta. E poi ci sono le notizie di Sport Nazionale perché ieri si è giocato il turno di campionato in Serie A. Abbiamo visto diverse sorprese, tra cui il pareggio del Frosinone a Torino con la Juventus. Vediamo comunque tutti i risultati. Carpi Napoli 0 a 0, Chievo Torino 1 a 0. Empoli e Atalanta il posticipo di questa sera. Fiorentina Bologna 2 a 0. Inter Verona 1 a 0. Juventus Fiorentina 1 a 1. Lazio Genoa 2 a 0. Palermo Sassuolo 0 a 1. Sampdoria Roma 2 a 1. Udinese Milan 2 a 3. In classifica a punteggio pieno l'Inter con 15 punti. Siamo giunti al termine della nostra consueta rassegna stampa di giovedì 24 settembre. A me non resta come sempre che ringraziarvi per la cortese attenzione e ricordarvi il secondo appuntamento informativo della giornata di oggi. Come sempre alle 14. La prima edizione del TG6. Grazie e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.